Oriana Fallaci è una donna che possiamo definire l'unione degli opposti. Ha una grande intelligenza e poi in alcuni momenti fragile come una bambina. Ha molte cose in comune con l'Oriana. Per domenica la faccio io. C'è una tua vita, io sto scanzo a strada. La cosa che mi divide molto da lei è l'idea della guerra come qualcosa di necessario. Questo non riesco ad accettarlo. Miss Anzei Vaida è un grande maestro. Sul set c'è una grande atmosfera sorridente ma nello stesso tempo anche rigorosa. Oriana difficilmente era contenta. Vaida e il copione hanno rispettato l'intervista originale. E' qualcosa che sicuramente le sarebbe piaciuto. E anche a me piace molto. Ginkuiere.